Quattro incendi sull'Ario nel giro di poche ore. Una giornata estremamente impegnativa per i vigili del fuoco di Como che hanno contrastato fiamme e roghi alimentati dal vento in grado di distruggere boschi interi per decine di etteri. Il primo intervento risale alle 7.30 di questa mattina sul monte Cornizzolo, vetta del triangolo lariano che supera i 1200 metri e si trova a metà tra le province di Como e Lecco. I vigili del fuoco di Como e Valmadrera hanno fronteggiato le fiamme per tre ore questa mattina e hanno spento un rogo che è riuscito a distruggere comunque 2000 metri quadrati di bosco. Sono invece 10 gli etteri di bosco e vegetazione distrutti nel secondo rogo a Esinolario in provincia di Lecco, località Ortanella. L'incendio è stato spento dai pompieri di Como e Lecco con l'ausilio degli elicotteri e l'aiuto degli operatori antincendi boschivi della comunità montana. Il terzo incendio della giornata è stato invece segnalato in via Pangino a Carateurio, sterpaglie e arbusti in fiamme anche in questo caso alimentate dal vento. Infine nel pomeriggio, il quarto intervento a Carimate in via Damello, i vigili del fuoco di Cantù sono intervenuti con due mezzi per spegnere un incendio che ha bruciato 300 metri quadrati di vegetazione.